Il libro di cui voglio parlarvi è di Olga Tokarciuk, Guida il tuo carro sulle ossa dei morti. Tokarciuk è vincitrice del premio Nobel per la letteratura nel 2018, anche se come sapete il premio è stato poi assegnato in realtà l'anno successivo. Questo è un suo libro, non è l'ultimo è uscito la prima volta nel 2009, è stato tradotto in italiano tre anni dopo e adesso esce una nuova traduzione, una nuova edizione. Ve ne parlo perché è un libro molto curioso, molto composito, in cui emerge tutta la capacità di inventiva e di eclettismo, di commistione di generi e temi che caratterizzano la scrittura dell'autrice polacca. Al centro del libro ci sono figure irregolari, eccentriche e tutto ruota intorno al tema della natura, che è uno dei grandi temi dell'opera della scrittrice, che è anche attivista, ecologista, ambientalista. La protagonista è una insegnante d'inglese, tra le altre cose, appassionata dell'opera del poeta e incisore visionario William Blake, e lo dico perché la visionarietà ha una grande parte in questo romanzo, che potremmo dire che è un romanzo giallo anche, è anche un thriller tra le altre cose, è da una parte un romanzo ecologista, dall'altra parte un thriller, perché qual è la trama? Sinteticamente in un piccolo paese, in una piccola comunità, cominciano essere assassinati dei cacciatori. Chi è il responsabile? Chi è l'assassino? Sono forse gli animali stessi che si ribellano all'uomo, che cercano in qualche modo di vendicarsi del male che l'uomo fa alla natura e fa agli animali? Intorno a questa domanda, intorno a questo piccolo grande mistero, si sviluppa una trama originale, piena di digressioni e piena di intermezzi brillanti, grazie alla voce della narratrice molto particolare.